Discernere i passatempi e i divertimenti di San Francesco di Sales tratto da Filotea. Ogni tanto è necessario rilassare lo spirito e il corpo con qualche divertimento. San Giovanni Evangelista, secondo quanto riferisce Cassiano, un giorno fu sorpreso da un cacciatore mentre accarezzava per divertimento una pernice che gli si era posata sulla mano. Il cacciatore gli chiese come mai lui, uomo di tanto valore, perdesse il suo tempo in una cosa tanto insignificante e senza frutto. San Giovanni gli chiese di rimando, e tu perché non tieni il tuo arco sempre teso? Per il timore, rispose il cacciatore, che, rimanendo sempre curvo, al momento opportuno non abbia più la forza di distendersi. E perciò, replicò l'Apostolo, perché ti meravigli se lascio per un po' il rigore e la concentrazione dello spirito per distrarmi un po' e consacrarmi poi con maggior vigore alla contemplazione? Essere tanto rigidi, rustici e selvatici da non voler permettere né a sé né agli altri alcun genere di divertimento, senza alcun dubbio, è un vizio. Prendere una boccata d'aria, fare due passi, fermarsi in conversazioni gioviali e piacevoli, suonare il liuto o qualche altro strumento, fare della musica, andare a caccia, sono divertimenti così onesti che, per usarne bene, basta la prudenza comune a tutti, quella che assegna ad ogni cosa un posto, un luogo, un tempo e la misura. I giochi nei quali la vittoria premia e ricompensa la destrezza e l'inventiva del corpo e dello spirito, come il gioco della pallacorda, della palla, della pallamaglio, il gioco della giostra, gli scacchi e altri giochi da tavolino di natura loro, sono divertimenti buoni e onesti. Bisogna guardarsi soltanto dagli eccessi, sia per il tempo che vi si spende, sia per il denaro che vi si impegna. Se tu vi consacri troppo tempo, diventa un'occupazione, non più un divertimento. Non ne traggono giovamento né lo spirito né il corpo, anzi, alla fine, ti troverai stordito e stanco. Dopo che hai giocato 5 o 6 ore agli scacchi, ti trovi stanco morto e vuoto nello spirito. Se giochi a lungo a pallacorda, non ti diverti ma ti ammazzi di fatica. Se poi la posta, ossia ciò che si mette in paglio, è troppo alta, si altera la serenità dei giocatori. Inoltre mi sembra un'ingiustizia mettere grossi premi per la destrezza e l'inventiva in cose di così poca importanza, anzi direi di nessuna utilità come il gioco. Ma soprattutto, Filotea, sta attenta a non impegnare il tuo affetto. Un gioco sarà onesto finché vuoi, ma metterci dentro il cuore e il proprio affetto è sempre male. Non dico che non si debba provare piacere mentre si gioca, non sarebbe più un divertimento, ma ti dico di non impegnarci il cuore per desiderarlo, perderci tempo e agitarti. I balli e i passatempi illeciti ma pericolosi. Di natura loro le danze e i balli sono cose indifferenti, ma il modo abituale di dar corso a questi passatempi manifesta una forte inclinazione e tendenza al male. Per tale motivo costituiscono sempre un certo pericolo. Ci si dà le danze di notte col favore delle tenebre e dell'oscurità. È facile farci scivolare qualche libertà equivoca e insinuatrice per un soggetto che di natura sua tende fortemente al male. Si veglia a lungo il che guasta la mattinata del giorno seguente e quindi la possibilità di servire Dio in essa. In una parola è sempre follia cambiare il giorno con la notte, la luce con le tenebre, le buone azioni con le follie. Tutti fanno a gara nell'essere vanitosi al ballo e si sa che la vanità dispone fortemente agli effetti equivoci e agli amori riprovevoli e pericolosi. Nelle danze tutto ciò trova un terreno ideale. Filotea, sai cosa dicono i medici delle zucche e dei funghi? Che non valgono niente. Ti dico la stessa cosa delle danze. I balli migliori non sono buoni a nulla. Se ti capita di dover mangiare delle zucche, fa attenzione che almeno siano preparate bene. Se ti trovi in una situazione per cui non ti è possibile trovare plausibili giustificazioni per dispensarti dal ballo, cura che la danza sia ben preparata. Con che cosa la devi condire? Modestia, dignità e retta intenzione. Riferendosi ai funghi, i medici dicono di mangiarne pochi e di rado perché per quanto ben preparati, la quantità li rende velenosi. Filotea danza poco e raramente, diversamente rischeresti di affezionartici. Secondo Plinio, i funghi proprio perché sono spugnosi e porosi assorbono facilmente tutto ciò che di infetto c'è intorno e se si trovano vicino a un serpente ne assorbono il veleno. I balli, le danze e simili riunioni equivoche ordinariamente assorbono tutti i vizi e peccati che dominano in un ambiente, le dispute, le invidie, le beffe, gli amori folli. Allo stesso modo che il ballo apre i pori del corpo di coloro che vi si impegnano, contemporaneamente apre anche i pori del cuore. Per cui, se qualche serpente, approfittando dell'occasione, viene a sussurrare qualche parola alla sciva all'orecchio, qualche corteggiamento, qualche moina o addirittura qualche basilisco, viene a gettare sguardi impudichi, occhiate d'amore, i cuori sono molto arrendevoli e si lasciano facilmente conquistare ed avvelenare. Questi divertimenti, Filotea, abitualmente sono fuori posto e risultano pericolosi, dissipano lo spirito di devozione, indeboliscono le forze, intiepidiscono la carità e risvegliano nell'anima mille generi di affetti perversi. Questa è la ragione per cui occorre servirsene con grande prudenza. Dopo i funghi si raccomanda di bere vino, della migliore qualità. Io ti dico che dopo le danze devi ricorrere a qualche sante e buona riflessione per bloccare le impressioni pericolose che il piacere che hai provato potrebbe aver risvegliato nella tua anima. Quando è permesso giocare e danzare? Giocare e danzare è lecito quando si fa per divertimento e non per affetto. Deve essere per breve tempo e non fino a stancarsi o stordirsi e di rado. Chi lo facesse spesso trasformerebbe il divertimento in lavoro. Ma quando si può giocare e danzare? Le occasioni per la danza e il gioco, di per sé moralmente indifferenti, sono abbastanza frequenti. In breve, gioca e danza alle condizioni che ti ho indicato, quando te lo consiglieranno la prudenza e la discrezione per accondiscendere e far piacere all'onesta compagnia nella quale ti troverai. La condiscendenza è figlia della carità e come tale rende buone le azioni indifferenti e permesse quelle pericolose. Riesce persino a togliere la malizia a quei giochi che sono del tutto cattivi, per cui giochi d'azzardo, che di per sé sono riprovevoli, cessano di esserlo se, qualche volta, è una ragionevole condiscendenza che ti ci conduce. Mi ha edificato leggere nella vita di San Carlo Borromeo che era arrendevole con gli svizzeri, in certi campi nei quali ordinariamente era molto severo, e che Sant'Ignazio di Loyola, invitato a giocare, accettò. Di Santa Elisabetta ad Ungheria sappiamo che giocava e danzava quando si trovava in riunioni fatte per divertirsi, e questo senza pregiudizio della devozione che era tanto radicata nella sua anima, che aumentava in mezzo alla pompa e alle vanità cui le esponeva la sua condizione, proprio come avviene per gli scogli intorno al lago di Rieti che crescono se battuti dalle onde. Col vento i grandi fuochi divampano con maggior violenza, ma i piccoli si spengono del tutto se non li proteggiamo.